3 punti pieni, una vittoria altrettanto tonda e un sabato sera che si chiude con un importante allungo sulla zona retrocessione che ora dista 5 lunghezze. La seconda giornata di ritorno, la prima in casa della Promoball Sanitars Gussago, finisce con i pugni chiusi alzati al cielo per la vittoria in 3 set sull'immediata inseguitrice Policura Lagaris. Nella partita per la sfida che pone di fronte due formazioni in cerca di punti importanti per la causa salvezza coach Nibio schiera a Malvicini in regia incrociata a Susio, Morriconi, Basalari, Ferrari e Gasparini. Il libero è Bertoletti. Dopo i primi lunghi scambi che le due squadre si aggiudicano in maniera alternata è la Promoball a prendere il comando del 7 e a dettare il passo. Favorita anche da buoni turni in battuta, la compagine bianco-rossa si porta sul 6-3, poi subisce un parziale rientro delle trentine che gravitano a meno 2 quindi riparte spedita. Tre punti consecutivi di Morriconi spingono il punteggio sull'11-7 e il tecnico ospite al time-out e quando si riparte poco cambia. A trainare è sempre la Sanitas Busago che si issa sul 14-8. Dai 9 metri si spinge davanti, si finalizza la difesa attenta e reattiva e all'occorrenza il muro sale alto, così il tabellone luminoso certifica l'inerzia a favore delle tigri, 17-10. Lagaris prova a rialzare la testa e dal 19-11 si porta al 19-14. Allora è coach Nibbia a fermare tutto e in risposta le sue ragazze riprendono il cammino con un passo più sicuro, 21-15. Un super attacco al centro vale il 22-16, poi Morriconi timbra il 23-17, ma un attimo dopo, con il punteggio sul 23-18, scendono da muro, Susio si fa male alla caviglia ed è costretta a lasciare il campo in lacrime. Al suo posto dentro Sandrini. La squadra metta segnò ancora un punto ma accusa il colpo e dal 24-18 consente alle ospiti di rientrare a meno 3, così Nibbia stoppa ancora tutto e a rientra un servizio out di Lagaris consegna il set per 25-21. Secondo set. Decisa a rimontare, la formazione trentina prova a spingere in apertura il secondo periodo, si porta sull'1-3, la promobol però in assetto rivisitato per far fronte al KO di Susio e in campo con Basalari schierata come opposto e Piantoni al centro non si lascia intimidire, anzi serra le file, pareggia e sorpassa 5-3. Lagaris non sta a guardare e riprende sul 5-5, ma ancora la sanita Sgusago accelera e sale sul 9-5. Poi, presi ritmo e fiducia, la squadra di Nibbio continua a martellare e lascia parecchio indietro le ospiti, 17-11. A nulla valgono dall'altra parte del campo, time out e cambi. La promobol è una schiaccia sassi che non si ferma e si porta sul 2-0 con un eloquente 25-14. Terzo set. Poi sfrutta il set ball e si porta a casa, tre punti pesantissimi. Nel terzo decisivo periodo la sanita Sgusago è bravissima a non lasciarsi prendere né dall'ansia né dalle reazioni della Lagaris. All'1-3 con cui quest'ultima apre il parziale, risponde impattando sul 3-3, quindi, osservate ancora le spalle delle avversarie per qualche scambio, infila un break di 5-0 e ribalta un 4-6 in 9-6, costringendo il tecnico delle trentine a far suonare la sirena. Benché rispetto alla frazione di gara precedente ci sia più da combattere e ogni discorso resti aperto praticamente fino all'ultima palla, ma al vicino i compagni e non perdono la concentrazione e mantengono la lucidità necessaria a mantenere la bussola ben salda. La policura prova in più di un'occasione a riprendere le bianco-rosse, ma il rischio maggiore che queste corrono è dato dal fiato sul collo degli ospiti, che però, oltre almeno uno, non riescono a rientrare. Perché, come fiutano il pericolo, le tigre azzannano e ristabiliscono le distanze, prima dal 12-11 al 17-14, poi dal 18-16 al 21-17, che poco più in là diventa 23-19. A onor del vero, un ultimo brivido c'è proprio a quell'altezza, perché tre errori consecutivi di marca Promobol tirano l'Agaris a un passo 23-22, ma la voglia di vincere e di prendersi tre punti importantissimi in ottica della salvezza è più forte e trova a compimento con il pallonetto che fissa il punteggio sul 25-23 e consegna una vittoria davvero preziosa.